. Da Quebec City, risultati e programma. Prosegue, in Canada, il torneo femminile. Sul veloce indoor, quattro partite a livello di singolare nella giornata di ieri. Si ritira la seconda testa di serie, Oceane Dodin non scende in campo e lascia strada libera alla Doleide, giocatrice proveniente dalle qualificazioni. La teutonica Maria liquida, con doppio 61, la Mino, mentre in equilibrio sono le altre due sfide. . Doleide, Dodin, 2, Bo. Quest'oggi torna a calcare il rettangolo di Quebec City Luce Safarova, prima giocatrice per classifica. . Nell'ultimo match in programma, affronta l'americana Kenin, reduce da un buon percorso all'US Open, treti con Maria Sharapova, e brava qui a regolare la Martinkova. La classe 2000 Andreescu attende invece la Radega. . . In avvio, la Golubic incrocia la racchetta con la Vichery. Per quest'ultima, qualificazioni e affermazioni al primo turno con la Vichyantseva a Flushing Meadons. A seguire, Van Wittbank, e Rakovic. Esiste un precedente tra le due, sull'erba. . A il play, 64-62 per la Belga. Si gioca sul court banque nazionale, il via alle 17 ora italiana. .